Complimenti per la tua prestazione, noi siamo dei tuoi fans, io ho avuto anche l'onore una volta di fare una piccolissima cosina con te Senti, noi facciamo una trasmissione che si chiama Fantasticando ed è dedicata soprattutto agli emergenti Invitare te è quasi impossibile perché non ci verrai mai, però chissà mai Io sono un emergente, per cui dal teatro Manzoni di Milano, avete appena visto il sorpasso in scena, agli amici di Fantasticando, è un grandissimo in bocca al lupo Per cui sempre muovere la fantasia che è il motore di questo lavoro, quindi non smettere mai, fantasticare sempre, muovere sempre quel fermento creativo che ci anima tutti, è un grandissimo in bocca al lupo Come si può diventare grandi come te? Bisogna aspettare che gli anni passano, si compiono 35, 36, 40 anni, si cresce, si diventa grandi così Grazie, sono un amico, grazie